Mettimi come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul tuo braccio, è un donarsi l'uno all'altro, è come dire Gianluca che fa spazio nel suo cuore a te, Caterina, e tu Caterina nel tuo cuore lo apri e metti dentro Gianluca. Questo è il segno forte che noi vogliamo vedere nel corso della vostra vita, perché la fatica sarà sempre questa ogni giorno, poter dire mettimi come sigillo nel tuo cuore, come sigillo sul tuo braccio, perché l'amore è forte, come la morte, non si può scappare, quando c'è l'amore vero è un dormendo meraviglioso. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.